Gobbaccio, torniamo in Italia con 8 milioni ora. Ora ti compriamo e ti riprendiamo, Gobbetto. Avete già apparecchiato tutto, eh? Anche la partita dopo. Avete già sistemato tutto, vero il sorpazzo? Aspetta, Gobbetto, perché ora torniamo in Italia. Ci riprendiamo subito quello che è nostro. Va bene? Voglio vincere contro di voi con un rigore inesistente. Io voglio vincere contro la Juve con un rigore inesistente. Aspetta, Gobbetto, aspetta. Che ora si rimette a posto tutto, non ti preoccupare. La partita non sofferta di più e sicuramente l'espulsione ci ha facilitato, diciamo, questo titolo strameritato perché l'Inter ha sofferto, ha saputo soffrire. Quando passava la linea di pressione del Napoli, comunque presentava tre, quattro giocatori davanti. Ticus, oggi, stasera sei stato un po' sprecone. Non mi sei piaciuto sotto porta, Ticus, ma va bene. Può succedere. L'importante è che tu capisca dagli errori. Acerbi monumentale, secondo me, il migliore in campo, Darmian, che dà fino all'ultima goccia di sudore. Anche Sommer ha fatto una bellissima parata su Kuvara a Schelia. Portiamoci un titolo a casa perché vincere aiuta a vincere. Aspetta, Gobbetto, tempo di fare la doccia, di prendere l'aero e veniamo subito a risistemare le cose. Non ti preoccupare. Stai già festeggiando i pasticcini, vero Gobbetto? Hai già aperto lo spumante. Dammi retta, rimetti tutto in frigo perché stiamo tornando in Italia. Ciao, Inter.